In un nuovo video, ovviamente quello del fantaminista Veneto, nella stessa giornata di oggi ricaricherò ve lo dico già il video del post partito di Milano Udinese perché ieri ho avuto qualche problema di caricamento ma veniamo ovviamente ad dunque per quanto riguarda la giornata del fantacalcio cercherò di essere sintetico ed esserlo più del solito giornata del fantacalcio che ieri ha visto chiudersi il weekend di calcio con la vittoria dell'Atalanta sulla SPAL ed era una partita che era da assistere attentamente perché la partita di questo weekend che era il derby tra le deluse di questo campionato e cioè FC Agostiniana e FC Petteniana che nel girone d'andata avevano regalato uno scoppiettante 3-2 con la vittoria dell'FC Agostiniana hanno regalato invece questo weekend un pallido 0-0 che non si schiodava dai punteggi bassi dei 50-55 ieri sera poi si sono susseguiti una serie di 5-5,5 palli di 4,5 poi ho rischiato comunque anche di poterla perdere perché insomma ieri sia io che il mio avversario avevamo diversi giocatori dell'Atalanta tra cui lui aveva Pasalic, io potevo magari avere un bel gol da Deron insomma era molto decisiva l'Atalanta SPAL per fortuna non lo è stata anche perché un punto di questi tempi dopo 4 sconfitte consecutive insomma è direi acqua, meglio è come dire un sospiro di sollievo volevo dire nel senso che almeno cresco di una posizione o meglio un sorpasso dove ero prima e vado a ritornare diciamo in una zona di galleggiamento da poter stare tranquilli perché insomma adesso mancano 4 partite al termine se non ricordo male quindi sono praticamente 12 punti disponibili siamo tutti lì parlo dal verso il basso della classifica fino al terzo posto si può ancora fare il primo ovviamente è già andato anche se questo weekend se non ricordo male ha subito un pareggio da parte non della seconda o della terza in classifica ma da parte della penultima in classifica se non ricordo male ha subito un pareggio 3 a 3 questo weekend anche se Immobile gli ha fatto praticamente tripletta ma tornando alla partita tra di noi o meglio tra il derby col mio amico Ago FC Agostiniana è stato ripeto uno 0-0 pallido diciamo che abbiamo avuto i nostri i nostri punti forti lui con i gol di Gekko a Genova io con il mio ormai pupillo milanista Teo Hernandez con il gol con l'Udinese ma al di là di quello insomma rispecchia lo 0-0 le squadre che stanno molto male in questo periodo ragazzo dell'FC Agostiniana senza portiere io con diverse defezioni questo weekend tra l'altro a centrocampo nessuna possibilità di fare un cambio Suso non entra Grassi scopro alla fine che ha un mal di schiena e non gioca con la Juve e Cialanoglu infortunato quindi praticamente non avendo poi la possibilità di fare altri schemi diversi dal centrocampo A5 con più punte e qualche centrocampista in meno per potergli dare il cambio mi porta a fare scelte obbligate io voglio salvarmi questa è la missione del primo anno di fantacalcio e speriamo che si realizzi detto questo e visto che non ci sono tante cose da dire è perché è stato uno 0-0 pallido non ci sono stati gol cioè i punteggi non hanno permesso alla realizzazione di gol è giusto affrontare il tema fin da subito o meglio la rubrica classica dell'app con chi secondo me va a far parte della classifica degli app e chi dei down questa volta è molto semplice degli app Teo Hernandez perché con la sua valutazione 10 ha fatto un gol spettacolare con l'Udinese da fuori terzino vero e proprio e lo ricorderò poi anche nel video della post partita del Milan di domenica grande gol da fuori e il suo 10 me lo garantisce abbastanza spesso assieme al suo 7,5 con l'assist magari regalato in una partita quindi molto bene Teo dall'altra parte e quindi direi che per gli app può bastare dall'altra parte per quanto riguarda le insufficienze io vorrei darla a chi a chi continua a essere discontinuo e a chi continua a prendere gol in continuazione perché volevo darla a Deron volevo darla a Jim City volevo darla agli altri 5 che ci sono stati ma il down di questa partita lo do a Joronen perché purtroppo mi sono accolto che quest'anno altra cosa penalizzante sono stati i portieri Joronen valutazione 5 due gol presi anche col Cagliari anche se ha comunque fatto una buona prestazione perché ha salvato comunque qualche occasione da gol del Cagliari ma ancora una volta altri due gol presi dati comunque da un Brescia non irresistibile ma la scelta dei portieri quest'anno è stata un po' è stata un po' penalizzante visto che Meret non ha giocato nemmeno questa partita qui del Napoli di questo weekend che ha perso con la Fiorentina 2-0 a proposito appendamoli abbiamo fatti il punteggio sarebbe stato diverso se avessi deciso per le due punte e Vlaovic quando non lo metto Vlaovic quando non lo metto segna a Napoli ha fatto il gol del 2-0 e un gran gol che ricorda tanto quello con l'Inter di un mese fa neanche mi pare no perché il Fiorentina l'ha giocata sì qualche settimana fa e da fuori su Andano vice dell'1-1 quando lo tengo fuori fa i suoi 10 punti quindi anche lì tante tante imprecazioni ma lasciamo lasciamo stare basta quindi sta una partita da 0-0 un buon punto adesso rimbocchiamoci le maniche le ultime 4 partite praticamente con quasi tutte quelle che stanno sopra di me a parte 2 sarò 2-2 mi pare 2 ad alta classifica e 2 ad alta classifica ma cerchiamo di risolverci in questa posizione e di chiudere il campionato in maniera tranquilla e fare poi le valutazioni finali quindi 0-0 pallido tra il derby più aspettato del fantacalcio FC Pettiniana FC Agostiniana 0-0 non la decide nessuno Giacomo da una parte e Hernandez dall'altra fanno la differenza ma nessuno vince un punto da testa e ci vediamo ovviamente mettete like se vi è piaciuto il video se no non lo fate seguitemi e ci vediamo ovviamente per il prossimo appuntamento del fantamilista Veneto con la giornata numero 21 per il campionato ma numero numero 19 per la Lega del fantacalcio della Maestre Cup e poi anche per il post partita di Brescia Milan di venerdì sera alla riga Monti di Brescia alla prossima ragazzi e buona giornata a tutti ciao